Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi che cosa ho preso ai mercatini asiatici. Infatti oggi ho fatto spesa in zona Sarpia Milano, dove vado tutte le volte che voglio magari recuperare qualcosa tipico della cucina cinese, giapponese o coreana. E siccome tutte le volte che ve ne parlo siete molto molto curiosi, ho pensato di dedicarci un video. Vi farò vedere che cosa tendo a riprendere tutte le volte che magari finisco le scorte in casa. Ci sono sia delle cose molto basilari, salse, pasta, alghe, ma anche degli snack. A me piacciono tantissimo gli snack sia dolci che salati, quindi ho preso qualcosa che già conosco e adoro e qualcosa nuovo da provare. Se ancora non siete iscritti al canale potete farlo, il bottoncino è qua sotto totalmente gratuito e in descrizione trovate invece vari modi attraverso cui sostenermi se i miei contenuti vi piacciono. Io vi ringrazio davvero davvero di cuore. Partiamo con questi panini dolci che io adoro. Questi in particolare li ho presi da Slab, che è una pasticceria cinese. Avevo fatto anche il mini vlog qua negli shorts. Io adoro, hanno torte, tra virgolette pasticcini se sono dolcetti piccoli, ma soprattutto hanno diversi prodotti di panetteria. Io di solito prendo il melon pan così semplice che è morbido, non è croccante all'esterno come si trova in altri posti, però a me non dispiace. E poi tendo a prendere sempre il panino con la zucchi, la pasta di fagioli rossi all'interno. Ne avevo presi due, uno l'ho già mangiato, ho fatto merenda così. A me piace tantissimo e trovo che abbiano anche un ottimo prezzo. Se non sbaglio questo con la zucchi è costato 2 euro, il melon pan 1,80 euro. Una cosa che compro da un annetto a questa parte sono i noodles semplici. Un tempo, non dico di essere stata ossessionata con il ramen istantaneo, però mi piaceva tantissimo l'idea di provare diversi gusti di ramen, quindi li prendevo magari già pronti. Il fatto è che non li trovo sempre soddisfacenti, non ce n'è mai uno di cui mi innamoro follemente. E essendo il brod già preparato, molto spesso sa tanto di chimico, non lo so, con il tempo ha iniziato a darmi fastidio. E quindi mi son detta, lo faccio io, mi compro i noodles semplici, provo a farlo io a casa o magari posso farli senza brodo, in diversi modi. Insomma, volevo provare ad arrangiarmi. E quindi compro la confezione di noodles semplici. A volte trovo quelli singoli, ma visto che li faccio almeno una volta a settimana, trovo che sia più conveniente il pacco più grande. Questo contiene 6 porzioni ed è costato poco più di 4 euro, quindi secondo me è buono. Ce ne sono alcuni con ancora più porzioni, se non sbaglio, e altri che, oltre ad avere così tanto ramen, hanno già anche le bustine monodose per il brodo. Questo invece ha soltanto i noodles. E la seconda volta che compro il pacco di questo brand, devo dire che mi piace. La loro porzione è perfetta per me, non avanza mai, non è mai troppo poca, quindi io mi ci trovo bene. Una cosa che faccio spesso o con il riso o ultimamente anche con i noodles è il curry. E mi è sempre capitato di trovare in giro il curry, quello medio, che non è né piccante né dolce. Che per me però rimane comunque dolce ed è veramente molto piacevole, soprattutto se è fatto ad esempio con patate e carote o le lenticchie rosse. Di solito questa è la mia combo vincente, però volevo provarne uno anche piccante perché a me piace molto il gusto piccante. Finalmente ne ho trovato uno da provare ed è lo stesso brand di cui prendo di solito il curry, si chiama Golden Curry ed è un mix già preparato, una sorta di dado da far sciogliere che poi diventa appunto salsina. C'è anche la versione meno piccante, ovvero tipo leggermente piccante, non soltanto hot, però sono andata direttamente su questo e sono molto curiosa. All'interno non mi ricordo quante porzioni ci sono, però si tratta di una tipo stecca lunga, pretagliata, quindi potete spezzare dei cubotti in base a quante porzioni volete fare. Trovo molto pratico perché è già pronto, quindi basta semplicemente aggiungerlo a un brodo o a delle verdure, lui si scioglie in poco tempo e è fatta. Un'altra cosa che prendo praticamente tutte le volte che ho occasione perché uso abbastanza di frequente in cucina, non per la frittura perché ormai non frigo praticamente più in casa, sig, ma per fare ad esempio le polpette di ogni tipo e per dare quindi croccantezza, il pane panco. Pan grattato molto molto croccante sostanzialmente. Di nuovo, questo è un brand che ho già comprato due o tre volte, mi ci trovo bene, penso che abbia un buon prezzo per essere rispetto a tanti altri, anche questo è costato sui 3 euro se non sbaglio. Di solito ho utilizzato appunto per la frittura, per fare la tempura ad esempio, però come vi dicevo io lo uso moltissimo per fare anche delle polpette, ad esempio con il tacchino, semplici con delle uove e verdure, per fare ad esempio i falafel e così via. Trovo che doni proprio quella croccantezza in più che mi manca. Anche intanto è arrivato a farsi le unche sulla poltrona. Sei un monello, perché ci disturbi fra te e l'allarme di vicini? Guarda. Un'altra cosa che acquisto spesso è l'alga nori, questa in fogli per fare ad esempio il sushi, anche se in realtà molto raramente la utilizzo per fare i roll. La utilizzo principalmente per fare ad esempio gli onigiri, quindi la taglio a striscioline, ci avvolgo quelle polpette di riso a triangolino che faccio in casa, oppure a volte le spezzetto nel riso così o liscio o accompagnato ad esempio con del pesce. A volte faccio anche i rotoli, ma più raramente. Preferisco prendere comunque i fogli perché li trovo un po' più pratici, perché li posso adattare a diverse mie esigenze. E preferisco prenderli in questi negozi proprio dedicati alla cucina etnica, perché trovo che costino meno rispetto ai normali supermercati dove c'è solo l'angolino etnico. Questo se non sbaglio è costato 2,50€ e sono 10 fogli. Fatemi sapere se questa cosa dei prezzi può esservi utile o meno, anche solo per farvi un'idea di quanto possano magari costare alcune cose o per fare dei paragoni anche quando andate voi. Magari dove vivete voi costano molto meno, ci rimarrei un po' male, devo dire, però Milano è super costosa. Dovete sapere che a me piace mangiare saporito, il che non significa salato, ma mi piace dare sapore a quello che mangio attraverso delle salse, attraverso delle spezie o delle erbe aromatiche e così via. Quindi molto spesso in questi posti c'è una scelta di salse imbarazzante. Hanno una salsa per ogni cosa, per i ghiozza, per i takoyaki, la salsa ponzu in diversi modi, anche la salsa di soia c'è in diverse sfumature. Quindi io tutte le volte mi perdo lì e cerco ogni volta magari di o provare qualcosa di nuovo o se non ogni volta ogni tanto, insomma mi lascio un po' ispirare. A sto giro ho invece preso una salsa che già conosco, che mi piace tanto, ma che non avevo più in casa e che non ha a che fare con l'Asia. Ed è la salsa Siraccia, che è una salsa piccante. Ne avevo presa una in passato che era in una confezione simile a questa che a me ricorda un po' un biberon, però era granulosa e sapeva troppo tipo di pomodoro e peperone, non mi piaceva per niente. Quindi poi l'ho data a mia sorella, via, e a sto giro ho preso questa che invece sembra più liscia e più simile a quella che piace a me, che sa quindi più di proprio peperoncino piccante e a me piace tantissimo abbinata alle alghe e al riso o al pesce, ad esempio il salmone, proprio... Se vi piace il piccante secondo me è da provare, non è esageratamente piccante, poi dipende anche quanto ne mettete, però a me piace molto e a volte lo metto anche nel brodo, sì, nel brodo di pesce o nel brodo di pollo. Mi sono dovuta andare a rivedere il prezzo della Siraccia ed è costata 2,90€ e questa è la bottiglietta, era la più piccola se non sbaglio, da 200ml. Cose nuove che ho voluto provare grazie o a causa dei K-Drama. Ma dovete sapere che ultimamente mia sorella mi ha messo in fissa con una serie, Business Proposal, su Netflix, è un K-Drama veramente carinissimo in cui si parla molto spesso di cibo. E in uno dei tanti episodi c'è una scena in cui mangiano fuori, mangiano dello street food, e ci sono questi tipo cilindretti che chiamano tobocchi, non vorrei sbagliare, probabilmente sbaglierò la pronuncia, perdonatemi, che mi incuriosivano molto e li abbiamo trovati oggi facendo la spesa. Sono degli gnocchi di riso glutinoso, quindi rimangono leggermente gommosi, hanno questa forma a cilindro e molto spesso vengono fatte appunto con una salsa piccante. Quindi ho preso i tobocchi, ho preso la salsa, che tra l'altro sulla confezione della salsa c'è scritto invece topocchi. Comunque è la salsa che serve da accompagnamento per questi gnocchetti e ce li siamo fatti subito per pranzo. Anche se forse con questo caldo non era l'idea migliore, ma era veramente buonissimo. Se vi piace il piccante, secondo me è perfetto e secondo me questo tipo di salsa si abbina perfettamente anche col fritto. Infatti ho il sospetto che il pollo fritto che a me piace tantissimo, agro piccante, di un ristorante coreano sia con una salsa simile a questa. Non sono così tanto piccanti come era questa salsa, ma secondo me, secondo me è quella, è quello il gusto. La salsa dovrebbe essere a base di gochujang, che è questa pasta piccante coreana. È la primissima volta che prendo questo tipo di prodotto, quindi non so se la marca sia valida o meno, ho preso quello che c'era e ho preso la confezione più piccola che ho trovato, ovvero da 200 grammi. Siccome a me piace il piccante, mi piace il peperoncino, penso che questo sia perfetto e anzi vedo che molto spesso viene utilizzato nella cucina delle mie amatissime signore coreane, che seguo qua su YouTube nei vari blog, quindi spero tantissimo di riuscire a ricreare qualche loro ricetta, anche se non sarà mai uguale o identica. Però ci proverò assolutamente. E un'altra cosa che ho preso sono gli... sono sempre degli gnocchi di riso, però non sono a forma di cilindretto, ma questa volta disco ovale. Io li ho mangiati in un ristorante coreano in una zuppa, quindi in un brodo. Non so se si facciano anche asciutti o se vadano mangiati soltanto in brodo, però già che c'ero mi son detta perché no, prendiamoli. Gli gnocchi di riso sono costati 3 euro, il pacco con i cilindretti e 2 euro invece i dischetti. La salsa di accompagnamento dei tobocchi è costata 2,80 euro, mentre la pasta coreana 2,20 euro. Una cosa che non avevo mai provato, ma mi sono veramente lasciata trasportare dall'entusiasmo e dal prezzo diciamo ridotto, anche perché mia sorella ha preso le perle di tapioca da farsi il bubble tea a casa e quindi ci stava perfettamente questa cosa qui, ovvero il tè. Sì, questa è una bustina di tè, dovete sapere che si trovano molto spesso delle bustine monodose anche per fare il caffè solubile o le bevande a base di latte, ad esempio si trova il maccialatte, il royal milk, vari tipi di pseudo cappuccino che sono solubili, si trovano in queste monodosi. Questa è costata 50 centesimi ed è il tè al passion fruit e mango ed è già tutto un programma, sono veramente molto molto curiosa di provarlo. Direi di passare agli snack, ho preso queste patatine che io adoro, proprio questo brand a me piace tantissimo e soprattutto le loro patatine al gusto teriyaki sono le mie preferite. Sono veramente molto molto buone, non sono a buon mercato, in alcuni posti si trovano anche sui 3 euro, io solitamente li trovo fra i 2 euro e 60 e i 2 euro e 70, oggi le trovate a 2 euro ma non c'era il gusto teriyaki che piace a me, quindi ho preso questo che ha il wasabi e all'alganori. Non è eccessivamente piccante per quelli che sono i miei gusti, i miei standard e trovo che siano buonissime per fare aperitivo, sono veramente veramente buone. Altri mie snack del cuore sono questi a base di pisello, sono come dei cornetti di mais per farvi intendere, capire un po' la consistenza, è come se fosse che so, riso soffiato, è veramente molto leggero, però appunto sono a base di pisello e può sembrare una cosa strana ma mi piacciono veramente tanto. Ho provato diversi snack di questo tipo, ci sono anche i Reasy Beasy di una marca italiana se non sbaglio, che fa sempre questi snack molto leggeri, croccanti, a base di pisello. Un'altra marca che ho provato adesso non ricordo, però li fanno sia al sale che ad esempio al pepe, buonissimi, molto spesso li fanno poi di una forma simile che ricorda un po' il baccello di pisello, è veramente molto carino. Questo ahimè è costato abbastanza, se non sbaglio 1,90€ e la confezione è piccolina, sono 30 grammi, quindi mi piange il cuore, però sono veramente veramente buoni. Ultimo snackino, mai provato prima, ma lo stavo cercando da tantissimo tempo, avevo sentito dire che era venduto anche tipo da Tiger, ma non l'ho mai mai trovato, mai da nessuna parte e quindi finalmente sono riuscita ad accontentare una mia curiosità, ovvero quella degli arachidi ricoperti di wasabi. Si capisce che mi piace il piccante, vero? Spero però che non siano eccessivamente piccanti perché non voglio stare male. Comunque questo è stato lo snack sicuramente più costoso, è costato 3,50€, la confezione è comunque da 300 grammi, quindi abbastanza grande e sono appunto arachidi con una copertura croccante a base di wasabi. Questo tipo di snack a me piace molto ad esempio col peperoncino o col chili e quello sì l'ho trovato molto spesso anche da Tiger, così ricoperti di wasabi non li ho mai trovati in giro. L'ultima cosa che ho preso è da bere ed è di nuovo qualcosa che non ho mai provato prima, ovvero il soju. Questa è una bottiglia da 350 ml ed è costata 4,50€. È un liquore se non sbaglio anche questo coreano, c'era di diversi gusti, mango, mela, passion fruit se non sbaglio c'era anche all'uva. Io però l'ho voluto prendere alla pesca. Questo nello specifico non l'ho mai sentito prima e sono molto curiosa di abbinarlo alla birra, come ho visto fare da delle ragazze con cui sono uscita un po' di tempo fa, siamo andate al ristorante coreano. Io ho assaggiato un bicchierino piccolo piccolo di soju, non mi ricordo se avesse un gusto particolare, a me sembrava liscio senza un frutto in particolare, un gusto particolare. Loro l'han versato nel bicchiere della birra e dovrebbe servire un po' ad addolcire appunto la birra, una bibita bevanda che io non bevo mai perché è troppo amara per i miei gusti, non mi piace la birra. Però sono curiosa di fare questo esperimento perché mi avevano un po' incuriosita e quindi, niente, l'ho preso da provare. Questo di nuovo ne bevono in quantità pazzesca nella serie che sto seguendo, che vi dicevo e quindi ero doppiamente curiosa di provarlo. Questa era tutta la mia, diciamo, spesa. Non è sicuramente a buon mercato, però c'è da dire che molte cose non le esaurisco in un giorno, anzi alcune mi durano comunque dei mesi, come ad esempio le salse, o i noodles, le alghe. Gli snack no, ma non li mangio tutti in un giorno. Quindi diciamo che è un piccolo sfizio che ogni tanto mi piace concedermi. Fatemi sapere se vorreste altri video di questo tipo, magari anche proprio classici, suota la spesa, di una spesa tipo della settimana. Io tendo a fare una spesa alla settimana. Non so però se vi può interessare o meno, per questo ogni tanto li metto nei vlog, perché a me piace un sacco far vedere che cosa compro, perché a me piace moltissimo fare la spesa. Mi piace provare cose nuove, quindi è come se facessi vedere la spesa a degli amici. Io tutte le volte che faccio la spesa mando il video a mia sorella, ad esempio, e tutte le volte che lei fa la spesa sono curiosa di vedere che cosa ha preso. Quindi non so se vi può interessare, nel caso fatemelo sapere. Di tutte le cose che ho preso sono poi curiosa di sapere quale vi ispira di più o quale avete provato, vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Poi se avete dei consigli, i commenti sono sempre aperti. Torno a ripararmi da questo caldo affoso, sto veramente squagliando, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!